83 e mezzo ed ora con il numero di testiera 129 accogliamo in arena Tamara Croselli in sella al suo Gunner Is Cic a seguire ci sarà il passaggio del trattore ed ora con il numero di testiera ed ora con il numero di testiera ed ora con il numero di testiera ed ora con il numero di testica Grazie a tutti. 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 Il punteggio per questo binomio è 216.